benvenuti a vlog gabinetto oggi buttare a dire straordinaria perché finalmente parlerò di una cosa che mi è piaciuta eppure parecchio ovvero il nuovo documentario fantastico di peter jackson the beatles get back mi raccomando iscrivetevi al canale perché questi sono i contenuti che porto roba di alto livello mi raccomando ci vediamo subito dopo la sigla era il 1997 avevo circa 16 anni ascoltava un po di tutto un po di grunge un po di metal un po di blip pop un giorno eravamo in macchina con degli amici un amico ne ho patentato improvvisamente giravamo così senza senza meta dalla radio esce she loves you she loves you the beatles che io non avevo mai sentito da quel giorno ossessione ossessione per i beatles da quel giorno tutto il resto passò in secondo piano perché inizia un amore spasmodico per i fab four e conoscevo già quelle dieci cazzoni più famose avevo sentito free as a bird che era uscita nel 1995 però ma ancora non era un beatlesiano quel giorno che sentisci love you in radio non lo so ci fu un'illuminazione senti quegli armonie vocali e uscì pazzo da quel giorno per i seguenti dieci anni e oltre diventai un fan ossessivo dei beatles come tantissimi altri nel mondo beatlesiano proprio che sentivo tutto leggevo documentari cercavo qualsiasi documento che potesse darmi una nuova un nuovo dettaglio in più sui beatles era diventato veramente un fanatico un fanatico in senso positivo poi scopri la carriera solista di john lennon con me cart e georgia ecco se questo documentario questa serie di viter jackson docu serie in tre parti fosse uscita a quel tempo nel 2000 nel 98 mi sarebbe esploso il cervello per fortuna uscita oggi dove sono un po più maturo e razionalizzo sono più equilibrato ma comunque è una roba fantastica get back the beatles get back vabbè per chi non lo sapesse per chi non fosse un beatlesiano fosse distratto the beatles get back è la serie documentario in tre parti da poco uscito su disney plus diretto da peter jackson che tutti conoscerete per il signore dell'anelli che io non ho visto perché non mi piace però lasciamo sta è una serie in dicevo in tre parti della durata complessiva di quasi otto ore che ripercorre e ridà luce alla lavorazione dell'album lady b lady b come molti sapranno è l'ultimo album in studio dei beatles e è anche un film un film documentario sulla registrazione di questo album appunto un progetto è nato nel 1969 diretto dal regista michael lindsay hogg che doveva essere degli intenti originari appunto un documentario sul lavoro in studio dei beatles sulla genesi delle canzoni di la db e che poi sarebbe culminato in un un'esibizione live doveva essere un documentario per la tv che poi avrebbe portato a un'ultima esibizione dal vivo dei beatles 50 anni dopo peter jackson ha accesso a le 60 ore di registrazione video 150 ore di registrazione audio scartate da la db la apple lo contatta per fare un'installazione sui beatles e lui gliela butta là dice ma sta roba il materiale scartato per le db che fino ha fatto ci sarebbe c'era uno scantinato di roba di nastri inutilizzato che è rimasto lì per 50 anni peter jackson grande fan dei beatles ci ha messo mano e dopo quattro anni di lavoro è riuscito a tirare fuori questa docuserie fantastica che per un bitoziano è meglio del porno è veramente il documento definitivo sui beatles il documentario definitivo sui beatles che se non avete visto raga datevi una mossa comunque ne parliamo lo stesso adesso e dura otto ore tre puntate da più di due ore e mezza io non sono un grande conoscitore di peter jackson ho visto qualche film il signore degli anelli non è il mio genere non ho mai guardato però avevo visto di recente they shall not grow old un altro documentario fantastico di peter jackson uscino al 2018 sulla prima guerra mondiale documentario bellissimo guardatelo un documentario sulla prima guerra mondiale dal punto di vista dei soldati inglesi dei giovani inglesi che andavano a crepare è una cosa meravigliosa perché sono video restaurati sono rizzati colorati qualcosa di bellissimo filmato originali di cento anni fa della prima guerra mondiale ripeto e qui peter jackson più o meno ha fatto lo stesso lavoro ma per me che sono un bitoziano ha fatto qualcosa di miracoloso vedere questo documentario the beatles get back è un sogno è stata un'esperienza quasi surreale qualcosa che una volta avresti visto come un'utopia no perché i filmati dei beatles sono quelli sono usciti 20 secondi più un minuto qua guarda qui ho trovato una foto e poi escono fuori 60 ore video di loro in studio 150 ore di audio e riesce peter jackson con un grande lavoro fatto durante il lockdown vedi alla fine la pure la pandemia serve a qualcosa a condensarlo in un montaggio fantastico di quasi otto ore diviso in tre puntate era già uscito un documentario bellissimo diciamo subito subito su paul mccartney che intervistato dal produttore rick rubin in studio davanti a un mixer parlava dei canzoni beatles analizzava le canzoni beatles suonava la chitarra spiegava il suo metodo compositivo muovevano diciamo il mixer sui brani più famosi dei beatles suonava il piano bellissimo bellissimo veramente recuperatelo in bianco e nero ma questo 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 è non plus ultra questo è veramente non plus ultra peter jackson si è avvalso della sua grande tecnica ormai appunto messa a servizio del famoso documentario che dicevo prima the show no crowd sulla prima guerra mondiale ma qui ha applicato delle tecnologie addirittura nuove hanno creato una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale per diciamo rendere per ridare vita al materiale studio dei beatles registrazioni in mono che grazie all'intelligenza artificiale riuscivano ad essere suddivise in varie no parti isolate chitarra basso batteria e poi remixate per per dare l'effetto dello studio registrazione una cosa meravigliosa meraviglioso risultato è fantastico suoni fantastici colori fantastici sembra una cosa registrata ieri anzi domani la prima sensazione che si ha guardando questa docuserie è che questo è un reality il primo reale di beatles hanno inventato il reality show perché è esattamente quello che oggi noi consideriamo un reality show loro in studio che parlano in modo così naturale quotidiano suonano gemmano parlano di quello che stanno facendo vengono ripresi registrati anche anche di nascosto per dare proprio il senso di verità di realismo è tutti tutti gli effetti un reality e questo di peter jackson appunto è un documentario sul documentario perché è un documentario sulla db no che era già un documentario però era un documentario è così neanche neanche due ore senza neanche una una vera narrazione era un insieme di immagini molto interessante molto bello però ormai era era datato dava una visione della storia dei beatles ma anche un po forviante mentre questo ha ridato luce in tutti i sensi alla storia dei beatles all'ultimo periodo all'ultima fase della loro storia all'album lady b alla loro ultima esibizione sul famoso tetto della della apple e anche alla genesi dell'album e b road perché loro i beatles mentre provano i pezzi di lady b che dovranno incidere nell'album e dovranno anche suonare poi dal vivo un'ultima volta provano anche i pezzi di abby road e quindi è stupendo io me lo sono visto due volte così per capire più particolari possibili e ho aspettato qualche giorno per così far sedimentare dentro di me questo questo lavoro che è pieno di dettagli di chicche di cose nuove perché ripeto è come se peter jackson avesse scoperto un'altra pompei c'è un lavoro di archeologia di restauro ha portato in luce un tesoro che nessuno sapeva neanche sì che si stesse e il documentario copre un arco temporale di circa tre settimane in cui beatles si imbarcano in questo progetto che ripeto doveva originariamente essere dar vita ad uno show televisivo documentario televisivo e un concerto che inizialmente si parlava di farlo addirittura in africa tripoli non sei vari posti alla fine decidono di farlo direttamente a casa loro sul tetto della apple ed ecco il concerto più iconico della storia del rock nato così quasi per per necessità per fare di necessità virtù e i primi giorni la prima settimana anche più di una settimana la passano negli studi twickenham gli studi di twickenham perché erano stati messi a disposizione dal produttore del film magic christian in cui ringo star recitava accanto a peter sellers quindi beatles potevano usare mentre il set veniva allestito mentre il set delle firme veniva allestito potevano usare questi studi per provare cominciare a dar vita a questi brani che dovevano essere 14 15 ma come vedremo alla fine ne suoneranno solo cinque ma ben presto e beatles tra varie vicissitudini si rendono conto che quello studio non va bene per l'audio per vari motivi e abbandonano il progetto del documentario televisivo del concerto a tripoli in posti esotici e si spostano tornano a casa tornano alla apple e alla fine appunto suonano a londra sui tetti della apple il film lady be diretto da michael lindsay hawk che anche lui molto giovane 28 anni quasi 28 anni circa esce nel 1970 un anno dopo pratica perché il concetto del 69 e e poi in un video del 1980 questo è un po il riassunto estremamente sintetico di quello che succede perché questa dopo serie è così straordinaria così affascinante per noi fan dei beatles per chiunque sia fan della musica rock della cultura pop perché per la prima volta vediamo i baronetti in fab four come persone reali come dei ragazzi qualunque dei ragazzi giovanissimi giovanissimi perché il più vecchio c'era 28 anni c'erano tutti i 28 anni poi meccarti c'era 26 anni george harrison durante la registrazione del documentario e di la db c'era 25 anni incredibile no erano già uomini già uomini anche fisicamente sembrano più grandi noi abbiamo sempre idealizzati considerati dei miti no già già adulti già il mito c'era un'età nasce già già adulto e l'abbiamo sempre visti grandi perché insomma loro a 25 26 anni avevano già vissuto di tutto hanno già vissuto successo droga la morte del loro manager amico brian apstein brian apstein che era il loro scopritore il loro mecenate il loro padre era morto di overdose nel 1967 lasciandoli orfani allo sbando il gruppo era in crisi anche per quel motivo e loro lo chiamano mister epstein mister epstein fa strano perché brian apstein era morto a 32 anni era un ragazzo anche lui c'era giovane eppure loro lo vedevano come mister come un signore un uomo adulto uomo d'affari imprenditore dicevo per la prima volta li vediamo proprio come persone reali non miti io nel ragazzino i beatles li vedevo come dei personaggi quasi di fantasia dei pupazzetti delle cose delle action figure non lo so li vediamo come persone vere che discutono se incazzano ridono scherzano tutto diventa reale dopo dopo 50 anni ciò che era mitologico diventa un reality e questo lo rende un lavoro straordinario già solo questo ma soprattutto questo documentario getta una nuova luce sulla narrativa classica dei beatles durante la db gruppo in crisi che che si odia tutti i membri che si odiava tra loro che a malapena si parlavano suonavano controvoglia erano su loro lo scioglimento e invece non deve avere un cazzo perché vedendo questo commentario si ha la sensazione di un gruppo proprio sì con le tensioni vari problemi perché diego no problemi problemi fisiologici di qualsiasi gruppo chiaramente in fase calante ma comunque pieni di ispirazione felici allegri amici dei ragazzini che si divertono a suonare in studio ed è bello vederli gemmare gemmare sui loro pezzi vecchi su pezzi nuovi comporre scherzare fare battute mangiano bevono fanno di tutto e fanno tante cover rock'n'roll anni 50 suonano covere kennedy it bob dylan parlano di musica è una cosa meravigliosa da questo punto di vista perché c'hai finalmente una specie di macchina nel tempo c'hai finalmente una finestra su quello che erano veramente i beatles nel loro privato perché come ho già detto questo è un vero e proprio reality in cui addirittura l'inzioc ovvero il regista che anche lui ripeto aveva circa 28 anni quando ha girato questo questo film proprio per dare la sensazione di di realismo per restituire allo spettatore la verità dello studio di registrazione piazzava microfoni dove i beatles non lo sapevano piazzava microfoni a sorpresa ovunque cercava di catturare quello che i beatles cercavano di tenere per loro quindi era una specie di grande fratello dove però i beatles erano quelli che pagavano cioè i beatles erano il grande fratello di loro stessi finanziavano un documentario da cui poi cercavano di occultare perché volevano la loro intimità si dimenticavano delle telecamere cercavano no di di aggirare i microfoni le telecamere ma i documentaristi erano più furbi addirittura a un certo punto possiamo ascoltare una conversazione privata tra piuttosto accesa è piuttosto polemica tra paul mccarton e john lennon in una caffetteria perché loro pensano di essere da soli a discutere le sorti della band ma il regista gli aveva nascosto i microfoni in una fioriera stupendo c'è una cosa ai limiti del legale però nell'ottica del documentario è stata una genialata tutto questo noi lo abbiamo visto dopo esserti dopo 50 anni qualcosa che non anche immaginavamo potesse esistere cioè john lennon e paul mccarton che parlano dei beatles in privatamente cosa chiedere di più addirittura i quattro per non essere per non farsi sgamare dalle telecamere e non farsi riprendere dai microfoni quando dovevano parlare di cose troppo intime della band nel loro documentario ripeto cominciano a strimpellare le chitarre alzano i volumi cominciano a far rumore per non far sentire quello che dicevano al regista alle telecamere ma purtroppo per loro dopo 50 anni hanno sviluppato queste tecnologie questa intelligenza artificiale che riesce a sezionare riesce a dividere le varie tracce tolgono il rumore e esce fuori tutto il dialogo dei beatles tu senti beatles che litigano che si prendono in giro che parlano che se che lì che si scontrano uno dei momenti più più scioccanti è quando a certo punto dal nulla georgia risompia e lascia la band salsa su mentre suonano va bene ciao io lascio la band quando adesso le saluto ciao come allora rimangono così rimangono senza parole lupia se ne va e loro cominciano di come reazione cominciano ironizzare poi c'è organizzare la buttano sullo scherzo poi c'è una strimpellare no come carte giolando ringo star tipo power trio incazzati cominciano a suonare delle cover cominciano a suonare magari feeling in modo molto violento quasi per esorcizzare quel momento e poi a certo punto si sente giolando che dice guarda se non torna abbiamo c'è tu senti loro che parlo è una cosa una delle cose che mi è più piaciuta di questo documentario è sentire i beatles che parlano di musica come se fossero un gruppo di oggi che si che provano dice noi siamo i beatles parlano dei beatles essendo i beatles e questa è una cosa fantà che nessuno aveva mai immaginato cioè loro sanno di essere beatles e parlano a un pubblico che vedrà quel documentario parlano del documentario parlano di se stessi parlano addirittura anche a noi che forse sapevano inconsciamente li avremmo visti e sentiti dopo dopo 50 e passa anni perché a un certo punto per esempio che pure questa è una delle cose più più belle del documentario paul mccartney discute della situazione di john lennon che ormai è totalmente preso da yoko ono al punto che la porta la porta si trova sempre in studio yoko ono si trova in studio perennemente lì ferma con loro al fianco di john lennon sempre e pomeccarti è conscio che lui ormai è troppo preso da lei per essere il suo partner musicale che è stato per per dieci anni passa e quindi dice vabbè ma se lui la ama fine che ci posso fare è triste è un po avvilito però malinconico però dice una cosa bellissima che dice pensa se tra 50 anni quanto sarà comica che quanto sarà divertente 70 50 anni diranno è se sono sciolti perché yoko se seduta su un amplificatore no cioè lui già immaginava quello che sarebbe stato il mito di yoko ono strega che fa shaggy e beatles già ci ironizzava quindi questo documentario va a sfatare tanti miti tra cui il mito principale che yoko ono ha fatto shaggy e beatles e lo dice paul mccartney in diretta raga a voi che nel 2020 vedrete sta roba forse non è così non è così ognuno c'è i cazzi suoi è bellissima sta cosa e lo stesso po meccarti venendo in anteprima documentario si è stupito di quante cose lui si era dimenticato e si è stupito di quanto il gruppo in studio era felice e armonioso e non era triste come poi la vulgata la narrazione ci ha portato a credere e ha portato a credere anche lui stesso che c'era yoko ono infatti come il documentario dimostra chiaramente ormai vive in simbiosi con john lennon stanno sempre insieme addirittura più avanti farà portare un letto in studio registrazione perché lei era incinta c'è avuto un incidente quindi john lennon fa sistemare un letto in studio registrazione perché lei deve stare sempre lì ci sono le foto yoko ono sta al fianco di john lennon tutte per tutte le ore di registrazione ma non dice una parola che a yoko ono tutti vedono come strega cattiva che tramava che ha separato i beatles in realtà sta lì come un gatto ai piedi di john lennon ma non dice una parola in otto ore non dice una parola a volte si quando gemmano comincia a cantare fa i suoi suoni no ma a volte si sente solo qualche piccola battuta john john dice un cazzo non mette bocca sulla musica la sua presenza chiaramente è un elemento di disturbo dell'equilibrio dell'alchimia della band perché su registrazione luogo intimo ci stanno quattro beatles tecnici green johns green johns che era il produttore di rolly stones le zepri in the u lì fa il tecnico del suono ma in realtà funge quasi da produttore musicale e george martin produttore storico in realtà passeggia lì ogni tanto fa una specie di produttore esecutivo di produttore no supervisiona ma non mette in realtà a mano è green johns menina il nome quello che fa veramente la produzione musicale anche sta cosa è una novità e yokono stalla ma non è non rompe il cazzo volente o nolente paul mccartney in quella fase l'ultima fase della band ma già dal 1967 in poi da sergeant pepper paul mccartney è il leader della band è quello che tiene insieme le redditi nel gruppo quello che fa in modo che le cose vengano fatte un maniaco del lavoro dell'ordine del controllo quello che volete paul mccartney è tutto a tutti gli effetti durante questo documentario una specie di direttore d'orchestra è quello più inquadrato mentre gli altri sono più più distratti john lennon c'ha ormai la testa altrove c'ha il divorzio di yokono c'ha i suoi cazzi la figlia di yokono poi hanno avuto problemi di droghe george erison è diciamo quello che sta a cui il gruppo il ruolo del gruppo sta sempre più stretto infatti le vere tensioni non sono come uno potrebbe pensare tra lennon e mccartney ma tra harrison e mccartney tra harrison e mccartney lennon perché george erison ormai cresciuto anche se c'è solo 25 anni non è più il ragazzino che loro hanno fatto entrare nella band perché sapeva su una band la chitarra vuole la sua indipendenza vuole più canzoni nei dischi non vuole più essere trattato come l'ultima rata del carro come uno che esegue quello che loro vogliono e quindi è insofferente infatti a certo punto ps ne va ci sono momenti veramente di tensione in questo documentario di quasi di imbarazzo perché alcune scene già si conoscevano quando paul mccartney a furia di dare ordini fra virgolette a george erison sulla parte della chitarra che deve suonare nel suo brano e george erison gli dice allora io fa quello che dici tu se poi non sono per niente insomma c'è una tensione nell'aria e paul mccartney se ne rende conto e dice quella scusa ma io cerco di aiutarti cerco di aiutare il gruppo non voglio sembrare un boss voglio sembrare il capo però gli tocca farlo un po il ruolo del capo gli tocca gli tocca interpretarlo perché una volta c'era bregan epstein ma poi purtroppo è venuto a mancare serve un a culo che ci abbia il pugno il pugno di ferro a un certo punto paul mccartney si presenta addirittura col sigaro proprio il simbolo del dittatore cazzo dell'uomo d'affari no e quindi ci sono queste piccole tensioni durante la lavorazione del progetto che appunto sfociano nella fuoriuscita del gruppo di georgerison così dal nulla poi ritorna abbandonano gli studi di twickenham e si trasferiscono alla apple e lì veramente riacquistano un po l'ispirazione ricominciano diciamo fanno pace e ricominciano a suonare a divertirsi a scrivere i pezzi c'è un'altra delle scene più più grandiose del film più iconiche che tutti di cui tutti parlano è po mccartney che aspettando l'arrivo di john lennon che è in ritardo sta là si mette a serie col basso e comincia a strippellare sto basso mentre george harrison e ringostare lo guardano quasi di gli dicono tipo a ritagli a risonare al basso a ritagli come dio scusate scusate se sto per comporre il pezzo che darà il titolo al documentario che vedranno tra 50 anni perché lui in 30 40 secondi strippella proprio il basso come una chitarra e compone get back dal nulla così una illuminazione il pezzo prende forma in pochi minuti poi arriva john lennon e lo arrangiano perfettamente e diventa una delle canzoni più più famose dei beatles più famose soprattutto quella che rappresenta meglio il rooftop concert cioè concerto sul tetto dell'apple l'ultimo certo dei beatles interrotto dalla polizia perché pensa poi a londra nel 69 i beatles più grande gruppo di sempre faceva il suo ultimo concerto a sorpresa gratis sul tetto dell'apple e la gente chiamava le guardie ma l'umanità ma merita di rimanere sul pianeta no quindi una delle cose che questo documentario mette più in risalto come se ce ne fosse stato bisogno è proprio il talento di Paul McCartney visionario polistrumentista musicista oggettivamente più completo dei beatles grande bassista bravissimo pianista cantante superlativo batterista chitarrista e Paul McCartney è il visionario del gruppo John Lennon talento eccezionale ottimo chitarrista songwriter che ve lo dico a fa' porta dei pezzi studio tra cui per esempio una versione embrionale di Gilos Guy perché tra le altre cose del documentario ci sono brani che poi finiranno degli album solistici dei beatles che loro iniziano così a improvvisare a strippellare ad arrangiare Gilos Guy che inizialmente si chiamava Child of Nature oppure All Things Must Pass di George Harrison oppure Another Day di Paul McCartney varie canzoni gimme some truth gimme some truth che finirà in imaging e li vediamo Paul McCartney aiutare John Lennon a completare a scrivere insomma a arrangiare gimme some truth cosa che Paul McCartney non si ricordava di aver fatto e nessuno sapeva quindi tante cose tanta carne al fuoco in questo documentario John Lennon sicuramente è un po' più distratto ha un po' più la testa tra le nuvole sempre pronto a suonare a scrivere a gemmare è diciamo il clown del gruppo è proprio l'intrattenitore fa il pagliaccio fa le imitazioni fare battute è veramente il personaggio più brillante perché come tanti sanno John Lennon voleva anche fare il comico cioè lui l'ha anche detto che fare il comico era un sogno al pari quasi del musicista se no non c'era il coraggio di affrontare il palco da solo insomma e quindi riversava questa vena comica nella musica nel cinema e John Lennon è interessante vedere vederlo al basso con quel fantastico Fender a 6 corde alle prese con LED B suonare vari strumenti addirittura a un certo punto porta in studio un organetto strano che si suona con un pennino è pieno di chicche poi suona piano al piano piano elettrico suona tutti prendono ogni volta che il ringo star va al bagno tutti si mettono la batteria ovviamente come succede in qualsiasi sala proprio in qualsiasi gruppo quindi è bello vedere questo aspetto proprio ludico dei Beatles che tu immagini miti gente ormai sempre incazzata piena di problemi invece erano solo dei ragazzi che volevano suonare come avevano iniziato senza tante rotture di coglioni George Harrison è il giovane irreviato del gruppo George Harrison ormai è stufo delle dinamiche della band è stupido di sottostare agli ordini tipo McCartney quindi a un certo punto mentre propone i suoi pezzi per esempio propone I'm in mind oggi consideriamo tutti una grandissima cazzone no? e loro quasi annoia carina John Lennon lo piava il culo dicono madonna però ma che lagna noi siamo un gruppo rock e roll dai che è sta roba e lui dice no se non la volete me la tengo per me c'è tutti questi dialoghi interessantissimi queste dinamiche interne del gruppo no? e veniva comunque sempre un po' snobbato George Harrison no? a un certo punto arrangiano something è considerata una delle più grandi canzoni di The Beatles di sempre è considerata da Frank Sinatra la canzone d'amore più bella di sempre lui l'attribuì a John Lennon Pondecartney mentre di George Harrison un'altra scena molto bella che già si conosceva in parte For Your Blue quando George Harrison porta in studio For Your Blue e John Lennon suona la steel guitar momento divertentissimo, bellissimo tutti contenti, tutti entusiasti di suonare cose nuove, cose fiche quando I'm in Mine viene criticata perché è poco rock poi però attenzione sembra che loro sono stronzi poi però nel disco finirà con un una parte rock and roll rock blues più veloce più dura che ci sta benissimo quindi quella critica era giusta perché ha portato un aspetto in più a una canzone che che gli serviva gli serviva quindi John Lennon col suo modo di fare un po' strafottente aveva ragione purtroppo a un certo punto Paul McCartney se ne va va non so dove va saluta e George Harrison questo è un altro momento che a me mi ha lasciato veramente innamorato George Harrison confida a John Lennon che vorrebbe fare un disco solista un disco solistico perché dice io ho tanti pezzi voi me li fate mettere due a disco ho i pezzi per i prossimi dieci album di Beatles quindi Beatles in teoria potenzialmente potevano ancora continuare secondo loro dice fammi fare voglio fare un disco solista così ci metto tutta sta roba che tanto voi non mi fate inserire eh fallo fallo perché no? cioè lui confida timidamente questa roba questa questa sua intenzione anche perché dice così se facciamo progetti solistici al di fuori del gruppo possiamo mantenere il gruppo e possiamo sopravvivere come band mantenendo la nostra indipendenza era una buona soluzione purtroppo non andrà così perché si scioglieranno definitivamente e basta è interessante anche quando George Harrison si praticamente si autocritica si autodemolisce come chitarrista dicendo che c'è Eric Clapton come altri chitarristi riescono ad improvvisare a fare assoli in cui improvvisano poi tornano al tema principale lui non si sente all'altezza di quei di quei colleghi e quindi dice vabbè io posso fare dei fraseggi dei riff degli assoli all'interno della canzone ma non sono un vero chitarrista eh shredder come si può dire improvvisatore quindi lui è molto umile nonostante sia uno dei più grandi oggi consideriamo uno dei musicisti più importanti della storia del rock dei chitarristi più particolari con un stile più personale più dei migliori compositori di canzoni di sempre perché ricordiamo che poi questa creatività di George Harrison stava per esplodere esploderà definitivamente appena si sciolzero i Beatles nel suo capolavoro solistico eh all things must pass un triplo album no? dove proprio lui lì proprio eh esplose con tutta la sua creatività repressa in dieci anni di Beatles e quindi lui si vendicò di questo essere un po' bistrattato the quite one quello il ragazzino talentuoso ma non gli diamo troppo spazio e non solo il suo album solistico all things must pass con il debutto di un Beatles secondo me più bello a livello di solista ma oggi la canzone di Beatles più ascoltata su Spotify è il comes the sun di George Harrison quindi lui si è proprio vendicato alla fine purtroppo Paul McCartney e John Landon se la prendono in saccoccia Ringo Starr la persona più tranquilla sempre disponibile sempre pronto puntuale forse perché era il più grande di qualche mese più grande di John Landon era il più adulto era il più il più serio equilibrato sempre pronto a supportare chi c'aveva una canzone tranquillissimo parla poco suona sempre da paura a un certo punto porta il suo abbozzo di brano Octopus is Garden che tutti conoscerete il suo brano più famoso di Beatles il più bello sicuramente e viene aiutato mentre lo strimpella al piano viene aiutato da George Harrison a completarlo e fa qualche battuta ogni tanto Ringo Starr è simpaticissimo veramente c'è una scena bellissima dove lui suona con Heather McCartney la figlia più grande di McCartney al fianco che anche lei contribuisce con una bacchetta vestita come lui tra l'altro scherzano veramente Ringo Starr era il personaggio che esce più più positivo anche perché lui diciamola tutta non portava pezzi non scriveva ha scritto tre canzoni in tutta la carriera quindi non è che poteva rompere troppo i coglioni però lui attenzione fu il primo a lasciare la band ancora prima di George Harrison fu il primo a lasciare la band e ad essere ricorteggiato per farlo rientrare perché il suo stile musicale era unico era parte integrante del sound dei Beatles una parte molto divertente quando Peter Sellers li va a trovare mentre loro stanno lì seduti a chiacchierare nei studi Twigernam e cominciano una specie di siparietto con John Lennon che fa le battute lo prende per il culo e Peter Sellers sta lì sta zitto un po' via se ne va tutto molto surreale un'atmosfera molto surreale il documentario raggiunge il culmine quando arriva Billy Preston Billy Preston pianista con Ray Charles con vari artisti bambino prodigio no? del rock blues rhythm blues e soul passa lì a salutare George Harrison ha solo 23 anni e Billy Preston dice vuoi poi suonava che pezzo pianofono ci serve un pianista sai io da suonare la chitarra poi da suonare il basso e niente dice vabbè diventa in cinque minuti diventa membro del gruppo inizia a improvvisare su su get back su tutti i pezzi su don't let me down e diventa la parte più forse più più importante dell'arrangiamento dei pezzi Billy Preston col suo arrivo eh inietta la nuova linfa vitale ai Beatles che improvvisamente ritrovano l'ispirazione cominciano felici a a a suonare e i pezzi fanno proprio un salto di qualità quindi quello quello è uno dei momenti migliori poi è divertente per esempio quando per esempio c'è John Lennon che inizia sempre quando non c'è McCartney perché McCartney era quello che incudeva un po' a timore era quello che anche nella conversazione segreta John Lennon gli dice eh ma tu stai un po' troppo ehm fai un po' troppo il padrone non vuoi essere criticato vuoi solo dare direttive insomma quando Paul McCartney se ne vanno un'altra volta John Lennon parla George Harrison proprio infatuato di Alan Klein ex manager di Rolling Stones uno squalo dell'industria discografica e lui è completamente infatuato da questo Alan Klein no? e sa già che Paul McCartney non vorrà affidare il management dei Beatles a questo qua però lui è proprio preso che bella persona perché li ha manipolati facendogli sentire grandi artisti e George Harrison ascolta senza dire una parola però eh e questa cosa pure mi ha stupito perché John Lennon sembra in realtà quello più furbo ma anche quello più suggestionabile entusiasta manipolabile e proprio questo scontro no? su chi doveva gestire la band per John Lennon doveva essere Alan Klein per Paul McCartney ehm Eastman il padre della finanzata Linda Eastman fu una delle cose dei fattori che portò veramente all'odio allo scioglimento della band addirittura a una causa che andrà avanti per anni quindi è bello scoprire queste in diretta questi avvenimenti vederli proprio nascere sul momento comunque tra le cose che io personalmente ho apprezzato di più c'è ehm lo sviluppo dei pezzi che poi andranno in Abbey Road perché in questo commentario ricordiamolo non ci sono solo i Beatles che scrivono e provano i pezzi della DB ma anche i pezzi di Abbey Road perché ricordiamolo Abbey Road è sì il penultimo album in studio dei Beatles ma fu l'ultimo a essere registrato perché dopo aver fatto questo questo progetto di documentario fallito questo concerto i Beatles ritornarono in studio per registrare Abbey Road che uscì nel 69 sempre nel 69 sempre durante quell'anno mentre l'ADB fu posticipato al 70 quindi il vero ultimo album dei Beatles è Abbey Road cronologicamente e ci sono io anche i pezzi più belli cioè Abbey Road è forse il capolavoro dei Beatles cioè la band che rinasce pezzi meravigliosi basta citare something e per esempio ci sono i pezzi dal famoso Long Medley di Abbey Road e loro lì la la fanno nascere cominciano a provare a suonare giornandolo al piano con le carti di Cilla Accordi suonano Shikami To The Bedroom Windows Windows ehm poi le team pen e una cosa divertente che no penso che tanti hanno notato guardando questo documentario è che tu hai la sensazione di quasi di vivere un viaggio nel tempo una specie di ritorno al futuro e vedi i Beatles che suonano pezzi che tu conosci a mena dito e volessi di ma che cazzo fai no no l'accordo è quello loro sbagliano accordi trovano l'accordo e tu lo sai cioè tu conosci i loro pezzi meglio di loro e sei sempre lì che dici ma che cazzo ma no ma non è quella no la parola non è quella cambia accordo ma che sta a fare ma che fai John da un lato però addirittura vedere tutto questo questa fare questa indigestione di Beatles Studio da una parte quasi rovina il mito no? vedere ogni pezzo l'accordo l'amplificatore loro che mancano bevano quasi fa perdere un po' l'aura mitologica mitica no? alla produzione dei Beatles che è sempre stata per noi in una specie insomma dopo lo scioglimento è sempre stata avvolta un po' nel mistero no? e quasi vederli scrivere suonare parlare svelare tutti i misteri da una parte è quasi brutto cioè non brutto però da una parte quasi svilisce però sti cazzi eh ma io sono contento Peter Jackson merita un monumento un monumento quattro anni di lavoro io giusto solo per fare questo video già ero preoccupato quindi qual è la conclusione di questa di questa recensione come vorrete chiamarla che i Beatles sono un fenomeno probabilmente irripetibile irripetibile chissà se tra 50 anni faranno la stessa cosa con i Maneskin non credo proprio a parte battute scontate è incredibile l'alchimia che c'era tra questi quattro ragazzi a livello proprio probabilistico statistico quante possibilità c'erano che tre geni e mezzo si incontrassero a Liverpool eh trovassero uno che credeva in loro Brian Epstein e riuscissero a fare quello che hanno fatto litigando pure cioè a quell'età così giovani a 30 anni a neanche 30 anni erano già concluso la carriera con i Beatles e con degli standard talmente alti che oggi le loro cagate fatte quando c'erano 15 anni per noi sono capolavori sono cose belle che loro le buttavano no butta tutto capito standard troppo alti addirittura i Beatles non mettevano i singoli negli album cioè i singoli non li spregavano gli album cioè gli album non c'era bisogno di singoli era troppo facile capito singoli a parte album tutta roba originale eh sempre 13 album in in otto anni praticamente qualcosa di di inarrivabile io spero che questo documentario sia visto da più persone possibili eh che parecchi capiscano la grandezza dei Beatles che non si limitano a luoghi comuni per le quattro canzoni più famose ringrazio Peter Jackson che mi ha fatto un regalo splendido 13 album in otto anni in cui non ci sono due canzoni uguali dove c'è un continuo rinnovarsi dove c'è sperimentazione ci sono generi diversi ecco una delle qualità dei Beatles delle di ciò che li rende unici è che ogni canzone è cantata da uno con una con una voce diversa dall'altra ogni disco sembra una band diversa ogni canzone sembra una band diversa tre compositori tre cantanti quattro cantanti tantissime sfumature non ci sono non c'è un sound dei Beatles è troppo variegato i Beatles sono e saranno sempre l'archetipo della rock band tutto ciò che succede in una band Beatles already did it si dice io sono contento anche perché oggi vengono osannati oggi è scontato che i Beatles siano il più grande gruppo di sempre tutti li amano all'epoca mia al paese mio non so se è anche il paese vostro ascoltare i Beatles era da sfigati a 16-18 anni erino sfigato ma i Beatles ma che è sta roba devi sentire metallica devi sentire pantera esecultura al massimo che ne so i Pearl Jam ma i Beatles ma che è yellow sun marini ma che è sta yes capito eravamo degli sfigati oggi siamo celebrati bene io credo di aver detto tutto forse mi sono dilungato anche troppo spero che abbiate apprezzato ditemi cosa ne pensate del documentario della mia specie di recensione dei Beatles vi ringrazio per l'attenzione mi raccomando lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi al canale per altri contenuti sempre spero di alto livello vi saluto a presto ciao